Ancora crolli e paura a Napoli, mentre in città spuntano segnalazioni e impalcature ovunque. Un 69enne di Acerra è rimasto lievemente ferito ad una spalla per il crollo di calcinacci in un condominio di Via Firenze, nella zona della stazione centrale. Due giorni fa, colpito dalla morte di Salvatore Giordano per un pezzo di cornicione caduto in Via Toledo, Tommaso Guadagni aveva creato un gruppo su Facebook per protestare contro lo stato degli edifici a Napoli. Intanto Via Toledo è sempre più piena di transenne e impalcature. Sabato sera, a pochi passi dal punto in cui è stato colpito a morte il 14enne di Marano, c'è stato un altro crollo dall'angolo del cornicione di un palazzo. Fortunatamente nessuno è stato colpito. La strada sottostante è stata parzialmente chiusa al passaggio per consentire gli interventi e per la sicurezza dei passanti e proseguono i lavori nella Galleria Umberto, piena di impalcature dentro e fuori. All'interno della Galleria sono state montate le impalcature sulle facciate di tre dei quattro edifici che la compongono. Nonostante i disagi, la struttura resta comunque aperta al passaggio di cittadini e turisti.